Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata di Angoli. In questa prima parte siamo in compagnia di Rosaria Marchesi, socia di Soroptimist.com, Gabriella Anania, presidente del Medesimo Club. Buonasera a entrambe. Buonasera. Prima di entrare nel vivo dell'argomento che vi ha portato un po' qua oggi, devo fare una cosa, devo ricordare la mail per comunicare con la redazione del programma angolichiociolaespansionetv.it, mi raccomando scriveteci. Allora, dicevamo che siete venute qua per raccontare di due importanti iniziative promosse da Soroptimist. La prima, peraltro, è subito domani, quindi appuntamento in calendario domani alle 19.30. Sì, tocca a me la prima. La prima è dedicata a una donna che è stata, potremmo dire, la mamma del Made in Italy. Il titolo dell'appuntamento è Rosa Genoni, due grandi passioni, moda e politica. Sarta è stilista, anti-segnana della moda italiana, è stata anche giornalista, socialista, anti-interventista e insegnante alla società umanitaria. Diciamo subito che Rosa Genoni è nata nel 1867 ed è morta nel 1954. Una figura interessantissima che ho conosciuto parecchi anni fa, perché mi interessa di storia delle donne, all'altra dei miei interessi di studio che sono un po' diversi. è una figura che ho seguito, perché negli ultimi tempi si è occupati di più, soprattutto l'anno scorso con il centenario del nostro ingresso nella prima guerra mondiale, se ne è parlato perché è stata anti-interventista. Ma qui a Como la figura di Rosa Genoni secondo me ci sta benissimo, perché è una sarta, una stilista, una creatrice, può anche essere che abbia utilizzato stoffe di Como. Questo lo scopriremo forse domani, perché abbiamo ospite la sua biografa ufficiale, la nipota Raffaella Podreider, figlia dell'unica figlia di Rosa Genoni. Ma diciamo le cose che legano in un virtuale nodo i club di Como e Rosa Genoni. Innanzitutto una data, Rosa Genoni è morta nel 1954, che è l'anno in cui è nato il Soroptimist Club. Non sappiamo se Rosa Genoni, che è stata attiva tra un po' Parigi e poi Milano, abbia conosciuto il club a Milano prima che il fascismo chiudesse tutti i club di servizio, però ne aveva tutte le caratteristiche. Una donna che lavorava nella moda, che si è fatta da sola perché veniva da una famiglia poverissima. Una donna che non si accontentava di lavorare, si interessava delle persone più bisognose, insegnando all'umanitaria e cercando di crescere delle sarte che avessero cognizione del loro valore. Una donna che ha fatto qualcosa di antesignano insieme al suo compagno e poi marito, l'avvocato Podreider, fondando nel 1925 un laboratorio di sartoria all'interno del carcere di San Vittore. Ebbene, pochi anni fa la nostra compianta presidente Adriana Carcano Spinelli, con la quale io ho avuto occasione di collaborare, è morta molto giovane, aveva fatto la stessa cosa nel carcere del Bassone a Combo. Come Soroptimist abbiamo aperto un laboratorio per aiutare le detenute e perché chissà mai qualcuna potesse imparare un mestiere. Quindi c'è questo legame che mi sembra, al di là dell'interesse moda, al di là, che certamente non è una città come Comeforte, al di là dell'interesse per una figura poliedrica, davvero un po' speciale con il Club di Cuomo. Vi dicevo che è nata nel 1867 in Valtellina, famiglia numerosa, si trasferisce a Milano, è una delle tante piscinine, cioè le sartine che aiutano, non è destinata apparentemente ad un avvenire, però comincia a frequentare i circoli socialisti, impara il francese, va a Parigi per un congresso socialista e decide di non tornare. A 18 anni si ferma, si ferma a lavorare in una casa di mode, torna a Milano tre anni dopo quando viene chiamata da una casa importante e lì comincia l'ascesa. Un'ascesa che continua. C'è un anno fondamentale nella storia dell'importanza di lavoro di Rosa Genoni, è il 1906 quando viene fatta a Milano la grande esposizione internazionale e lei partecipa con i suoi abiti, con due padiglioni che vengono finanziati non dalla casa Ardat, la maggiore forse delle case di Milano, ma dal suo compagno, l'avvocato Podreider. E questo perché Rosa lancia la moda italiana, rifacendosi a dei modelli che sono quelli della storia dell'arte, inventa degli abiti favolosi, chiaramente sono abiti per la sera, siamo nella bella epoca, le donne si vestono ancora in una certa maniera, con la guerra ci sarà poi, insieme alla frattura del disastro della guerra, anche un cambiamento nell'abbigliamento. Rosa vince il Grand Prix della giuria, oggi che cosa resta di questo grande esposizione? Due abiti che sono conservati a Firenze, alla Galleria del Costume, uno si ispira a un dipinto di Pisanello ed è un mantello, l'altro si ispira invece a un quadro di Botticelli ed è un abito. E quindi domani sera ci sarà l'opportunità per chi volesse partecipare, diciamo dove, da che ora, come sarà ricostruita questa storia, avete anche magari dei documenti iconografici, non so. Allora, la persona che verrà a raccontare è Raffaella Podreider, dicevo che è nipote di Rosa e Genoni, da anni la signora Podreider che nella vita per 40 anni è stata insegnante d'inglese e scrive romanzi di avventure per i ragazzi, si occupa di raccogliere materiale su questa nonna importantissima. Lei ha delle immagini che proietterà, possiede ancora qualche abito della nonna, perché evidentemente questi vestiti erano fatti per essere venduti, li hanno indossati grandi attrici, li hanno indossate teste coronate, sono negli armadi di queste persone, o quantomeno erano negli armadi di queste persone. E poi ci parlerà dei rapporti che la nonna aveva con delle grosse figure dell'epoca, per esempio la signora del socialismo italiano Anna Kulishoff, forse vedremo delle immagini e delle lettere. Alla Museo di Firenze sono state donate anche 60 cartelle di materiali che contengono cose varie. Allora, l'appuntamento è come sempre quando facciamo queste cene leggere seguite da una, non è proprio una conferenza, è una chiacchierata con immagini, ovviamente. L'appuntamento è alle 19.30 nella sala turca del casino sociale, però bisogna, spero che voi abbiate una locandina, perché bisogna prenotarsi, ci sono da chiedere delle informazioni presso la nostra segreteria, sperando che ci siano ancora dei posti disponibili. Certamente, peraltro approfitto per ricordare il sito di soroptimist, soroptimist.it, dove ritroverete appunto in una risoluzione migliore, decisamente migliore, la locandina, con tutti i recapiti per prenotarsi. Veniamo al secondo appuntamento Gabriella, perché questo riguarda il 23 febbraio, è un tema anche qui molto sentito, perché soltanto poche settimane fa c'è stata praticamente una mattanza sulle strade e infatti il tema che proponete di discutere riguarda la pirateria stradale. Sicuramente la pirateria stradale, che è questa conferenza che si terrà in biblioteca qui a Como a partire dalle ore 20.30, che faremo proprio in Interclub con altri club, il Kivanis, le Inner, il Rotary Como Club e ovviamente noi come soroptimist. È un'occasione importante per un momento di riflessione, di informazione, di sensibilizzazione su una problematica che è veramente un fenomeno sociale, anzi quello della pirateria stradale, che è tristemente in aumento e di cui a mio avviso si parla ancora troppo poco, se non quando accade l'ennesima tragedia. È quindi una tematica fortemente connotata da un punto di vista proprio sociale e di attenzione anche per quanto riguarda soprattutto le fasce in un'ottica di prevenzione, anche le fasce giovanili, perché chiaramente parliamo anche alla base di un'educazione civica, di un'educazione a quelli che sono i sentimenti cosiddetti prosociali di collaborazione, di aiuto e di condivisione, che sono anche quelli che se ben interiorizzati permettono anche di intervenire rispetto a situazioni. L'incidente è un fenomeno del tutto occidentale, nella maggior parte dei casi può succedere, chiaramente nei casi di pirateria stradale abbiamo delle connotazioni diverse, però quello che si può sicuramente dire è che nella maggior parte delle persone, dei cosiddetti pirati della strada, manca proprio questa componente diciamo proprio di prosociali, di empatia, che non permette di riconoscere lo stato di aiuto in cui si viene a trovare la persona vittima di un incidente provocato proprio dal pirata della strada e che quindi fa propendere loro per la fuga, per un comportamento di fuga piuttosto che di soccorso e di aiuto. Va bene, in questo caso l'appuntamento è in biblioteca? Biblioteca Como, martedì 23 febbraio alle ore 20.30 ed è aperto anche questo alla cittadinanza. Benissimo, ricordo ancora una volta il sito soroptimist.como.it per tutte le informazioni. Grazie per essere state con noi, adesso ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità ma ovviamente con la seconda parte torniamo tra pochissimo, quindi a tra poco.